E della riapertura dell'ospedale anche a tutte le altre attività ha parlato anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Luciano Flor. Il dato dell'andamento della malattia misurato con i ricoveri o con i pazienti in rianimazione è un dato che dice che abbiamo più che dimezzato i ricoveri in malattie infettive e più che dimezzato i pazienti in rianimazione, insomma da 38-40 pazienti che abbiamo avuto nel periodo più alto di malattia oggi ne abbiamo tra i 12 e i 13 malati, quindi questo numero si è stabilizzato ormai da qualche giorno, cala lentamente quindi ci fa pensare che ci siano meno malati sul territorio, meno malati che generano ricoveri e che generano necessità di rianimazione noi teniamo comunque allertato tutta l'organizzazione dell'ospedale, siamo pronti a qualunque evento siamo pronti anche però per riprendere gradualmente le attività ordinarie per i cittadini e lo dico subito, avremo un ospedale che funzionerà in modo diverso dovremo rispettare distanziamento, dobbiamo rispettare mascherine, dovremo rispettare che non avremo più le sale o le code come avevamo prima ci organizzeremo, io credo che l'importante è che il cittadino abbia la sua risposta sanitaria in questi due mesi abbiamo sviluppato una capacità anche di fare telemedicina che in alcuni reparti sta funzionando molto bene e vedremo com'è possibile addirittura